buongiorno a tutti vi parlo unicarno 007 vi sto per dare una brutta notizia io e alias 0045 ci divideremo perchè ognuno farà video propri sul proprio canale però comunque faremo sempre video insieme io adesso ne ho già creato un altro in questo momento mi chiamo silverfoxion e ecco questo è il mio canale inizierò a fare video che è sicuramente molto più bello e inizierò a fare video un po' su vari giochi come ad esempio planetside che sto scaricando adesso è 74% nuovo gioco fps che ho scoperto e poi comunque continuerò la serie di chiedila al genio iniziandola e quindi non mancate mentre il canale di alias 0045 non è ancora stato creato ma farò un video apposta per lui grazie comunque e continuate a seguirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti